L'occasione è quella di presentare un convegno organizzato anche da una banca locale in cui si parla del vivaismo di 10 anni di collaborazione e di sinergie fra i vari settori tra i vivaisti pistoiesi, tra il distretto floro vivaistico, l'associazione vivaisti insomma qui a Pistoia non è difficile lavorare bene insieme, è così? È quella che è la tendenza che stiamo registrando in questi ultimi anni ed è qualcosa che appartiene a un'evoluzione del settore e del mercato è inutile continuare a essere delle aziende che operano in maniera assolutamente solitaria quando abbiamo avuto da 10 anni la mostra che è stata inaugurata poche ore fa e la dimostrazione un meccanismo per raccogliere il vivaismo e promuoverlo nel mondo come è stato vestire il paesaggio come lo è tuttora, un'iniziativa della provincia di Pistoia voluta dall'ex presidente Venturi e da Renato Ferretti, Ilaria Bonanno e tutto dello staff ha portato l'immagine del vivaismo del mondo e al tempo stesso ha favorito un'aggregazione e un dialogo fra le parti. Poi la nascita stessa del distretto, dell'associazione vivaisti italiani e il dialogo che c'è fra queste figure porta inevitabilmente a una crescita a una maturità non solo di prodotto ma anche di management, di imprenditoria. Ho visto uno degli interventi, non il tuo, in cui ci sono due parole che fanno pensare opportunità e minacce. Quali minacce ci sono per il vivaismo? Le minacce sono dovute al fatto che siamo passati da essere quasi monopolisti nel momento in cui all'inizio del secolo scorso è nata la pianta in zolla con una qualità nettamente superiore rispetto alle produzioni presenti sia in Italia che all'estero adesso la coltivazione in contenitore e una diffusione molto più veloce del know-how grazie anche a internet hanno portato alcuni paesi a sviluppare delle attività vivaistiche che possono competere con Pistoia. Questo è il pericolo. Da questo pericolo nasce l'esigenza di aumentare il dialogo fra le parti per finalizzarlo anche a ottenere una serie di iniziative, una serie di attenzioni e anche una serie di studi che ci possano permettere di continuare ad avere non solo un prodotto di alta qualità ma anche una riconoscibilità del territorio perché Pistoia è in Toscana, Toscana è una delle parole più cercate nel mondo sui sistemi informatici di conseguenza per noi è un grandissimo valore aggiunto che dobbiamo iniziare a abbinare al nostro prodotto. Ho notato nel comunicato stampa della banca che le interviste da loro realizzate online in un campione di aziende vivaistiche hanno verificato che la cosa più importante o perlomeno quella che per la maggioranza delle aziende più importante è la qualità della pianta l'azienda familiare meno il marketing e la pubblicità in senso lato. Come mai? Perché il campione è un campione riferito a, diciamo sulla realtà del distretto è riferito a medie e piccole imprese, anche parlavano di un campione dove per grandi intendevano aziende che fatturano più di un milione e mezzo di euro all'anno. Questo segmento di aziende è un segmento che rientra in una filiera produttiva pistoiese basata sulla Soccida e su altri sistemi per cui il marketing è difficile come orientamento perché il principale cliente è il mercato stesso distrettuale mentre alcune di queste aziende invece, come si è visto, una piccola percentuale ma neanche tanto piccola sono interessate ad ampliare la propria gamma di servizi e di prodotti e quindi cominciano a interessarsi anche a un marketing. Per finire una domanda mia personale, nel senso che mi è venuta in mente ascoltando da tanti anni i vivaisti parlando con loro, io credo che per fare vivaista bisogna per forza amare le piante per certi altri lavori magari non è strettamente necessario amare il prodotto che si lavora in questo caso che si continua, è così? È fondamentale, questo è un lavoro che se non viene fatto con passione non può essere fatto moltissimi lavori oggi richiedono una passione innata per essere portati avanti perché ci vuole fiducia, bisogna crederci e soprattutto ci vuole molta pazienza oggi siamo abituati con l'informatica, con internet ad avere tutto subito per avere alcune piante non bastano 15 anni e quindi se non c'è una grande passione dietro è difficile poter fare questo mestiere.